Musica Ancora un saluto dalla nostra redazione, bentrovati al consueto appuntamento con il TG10. Apriamo questa edizione del nostro notiziario con il bilancio delle attività annuali del 2015 tracciato dal questore di Caltanissetta Bruno Megale. Un'intensa attività quella che ha visto impegnata la polizia in questi mesi in sinergia con le altre forze dell'ordine per incrementare la sicurezza percepita dei cittadini. Un bilancio di fine anno, quello tracciato dal questore Bruno Megale caratterizzato da un decremento dei reati in genere eccezione fatta per quelli predatori nel periodo compreso tra il 1 gennaio e il 30 novembre. 73 le persone tratte in arresto in flagranza di reato e 101 a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria. 1.676 denunciati stato di libertà. Sequestrati 57 kg di ascesse, 3,66 kg di marijuana, 372 g di cocaina, 3 litri di metadone e 4 g di eroina. Alta l'attenzione anche sulla dispersione scolastica con 1.673 episodi segnalati e 58 casi di allontanamento di minori. Oltre 6.500 i fotosegnalamenti, tra cui molti migranti, un flusso costrante e continuo che ha visto l'impegno di numerose risorse della polizia con oltre 2.969 cittadini stranieri giunti al CARA trasferiti in altre regioni e 1.300 trattenuti al CIE rimpatriati con accompagnamento coattivo. L'ultimo anno i dati dicono che c'è stato un oggettivo incremento delle presenze di immigrati. È un fenomeno epocale oggettivamente, quindi Caltanissetta pur non essendo una città costiera non è esente da questo tipo di fenomeno. Però devo anche dire che non c'è un aumento dell'incidenza criminale connessa alla presenza degli stranieri. Non posso, non ho dei segnali in tal senso. È chiaro che la popolazione deve anche abituarsi a un fenomeno che è completamente nuovo. Abbiamo fatto uno sforzo importante in questi ultimi mesi, abbiamo concordato a livello di comitato in prefettura e di riunione tecnica di coordinamento una serie di interventi che vadano in qualche modo ad incidere sulla percezione di sicurezza dei cittadini. Quindi abbiamo anche per la situazione contingente internazionale, congettivamente un po' pericolosa, abbiamo aumentato tantissimo i controlli al centro, al centro storico e non solo al centro storico, tutti i luoghi di assembramento, tutti i luoghi di incontro, tutti i luoghi di raduno che potenzialmente costituiscono dei obiettivi per attività di tipo criminale. Si è lavorato molto sinergicamente con i vigili e con le altre forze di polizia per andare in qualche modo a controllare i quartieri un po' più degradati del centro storico e a mio modo di vedere alcuni risultati cominciano già a vedersi. Due alle operazioni di polizia, Malleus e Redivivi, che hanno colpito duramente la criminalità organizzata di Gela legata al clan Rinzivillo, un fenomeno che vede una nuova manovalanza. Le nuove leve sono sempre più giovani, quindi le organizzazioni criminali si rigenerano, hanno una capacità incredibile di rigenerarsi nel territorio e vanno a reclutare o ad attirare persone sempre più giovani e questo in prospettiva è un fenomeno preoccupante. Nuovo rogo nella notte a Gela, questa volta il fuoco ha distrutto una Fiat 600 parcheggiata in via Benedetto Croce. La vettura appartiene ad una donna di 36 anni, l'incendio si è sviluppato poco dopo l'una. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, sono arrivati i carabinieri della radiomobile che hanno sentito la proprietaria del veicolo. Si sono riuniti per discutere e trovare risoluzioni adattaviche problematiche legate alla disabilità. Sono i rappresentanti dell'associazione Progetto H che hanno incontrato il neassessore comunale Licia Abela, il dirigente Maria Morinello e il rappresentante dell'Unione Cech italiana Linda Legname, il consulente legale dell'associazione Progetto H, l'avvocato Paolo Capici. Abbiamo forse finalmente definito la questione del trasporto dei vouchers, che è stata un pochettino complicata questa strada, però alla fine pare che ci siamo riusciti. È una cosa provvisoria perché il Comune deve organizzare un bando come succedeva negli anni precedenti. Quindi queste sono scelte che fa il Comune. L'importante è che i disabili abbiano il servizio di qualità buono. Abbiamo affrontato per l'ennesima volta il problema dell'assessorato ai servizi sociali perché siamo stati ospitati nella sede del segretario sociale che non è per niente adatta né dignitosa per quanto riguarda l'accesso dei disabili in carrozzina. Io chiedo al sindaco e all'assessore competente che trovino immediatamente la soluzione che ha portato a di mano cioè spostare l'assessorato più avanti di 100 metri dove c'è il territorio d'ambiente a pieno terra. Se entro 10 giorni non farà il nostro spostamento penso che faremo una pretesta un po' più accentuata. Inoltre abbiamo programmato con l'assessore il programma per gli accudienti perché è scaduto e quindi si deve rinnovare e il comune deve trovare i fondi perché l'assistenza venga fatta 4 ore su 4 e non 1 ora su 4 per evitare che vengano chiamate le mamme ad accudire i bambini. In ultimo abbiamo programmato a medio termine la revisione dei servizi che riguardano i soggetti non autosufficienti per l'apertura di centri per gravi e di centri di orne. Nasce a Gela un nuovo movimento politico denominato Destra in Movimento fondato da Angelo Caffà, Rocco Caffà, Angelo Cascino, Rosario Catalano, Giuseppe Catania, Raffaele Docente Massimiliano Falvo, Giovanni Lasagna, Francesco Minardi, Claudio Perconte, Guglielmo Piazza, Salvatore Picone, Ignazio Ragnolo e Gaetano Sola. Potevamo stare con i forti e i vincitori e invece abbiamo deciso di intraprendere un percorso difficile e tortuoso perché noi amiamo la nostra terra, noi amiamo Gela, scrive in una nota inviata alla stampa il portavoce del neo movimento, Francesco Minardi. Il clientelismo, il malaffare e gli interessi delle grandi lobby hanno comportato una profonda crisi dei partiti politici che si è trasformata in una crisi di rappresentanza e rappresentatività democratica della quale i partiti nazionali fanno finta di non accorgersi. Il movimento politico pertanto nasce dalla volontà e dalla esigenza di creare nel nostro territorio un percorso di crescita condiviso che trovi le proprie radici nella destra sociale storica che si ricolleghi ai valori della tradizione. Leggiamo ancora nel documento l'intenzione è quella di declinare temi più rilevanti per il nostro territorio alla luce di una visione del mondo che prende le mosse dalla destra sociale a cui ci ispiriamo ma che vogliamo interpretare in chiave evolutiva. Destra in movimento sarà un laboratorio politico che avrà tra i suoi compiti quello anche di riavvicinare i cittadini alla cosa pubblica portando in seno agli organi dell'amministrazione, le istanze, gli appelli e le richieste che provengono dalla comunità ormai priva di rappresentanza conclude il portavoce di destra in movimento Francesco Minardi. Cambiamo ancora argomento, cerimonia di chiusura domani alle 17.30 per la seconda mostra di Presepi, Presepi in Comune promossa dalla Proloco di Gela previsto un concerto con Samuele Mammano, degustazioni e molto altro, vediamo. Si concluderà domani la seconda mostra di Presepi allestita all'interno del Palazzo di Città Presepi in Comune promossa dalla Proloco di Gela grazie all'importante collaborazione degli istituti scolastici locali. La mostra allestita e inaugurata lo scorso 19 dicembre ha riscosso un notevole successo di pubblico. Molto apprezzate le composizioni della natività a frutto dell'impegno degli studenti e dei loro docenti. Significativi temi trattati dalle scuole, immigrazione, rispetto dell'ambiente, giubileo della misericordia, eccellenze del territorio, forza evocativa delle tradizioni. Mercoledì 6 gennaio a partire dalle 17.30 sono previsti esibizioni musicali con Samuele Mammano, intrattenimento, degustazioni dolci e salate grazie al pasticcere Angelo Cassarino e al panificatore Michael Cassarino e la pesca dell'epifania con l'estrazione dei biglietti vincenti. Numerosi premi messi a disposizione dai commercianti che hanno sposato il progetto della Proloco. I numeri vincenti saranno poi pubblicati sul televideo di Canale 10, sul sito www.prolocogela.com e sulla pagina Facebook Proloco Gela. In occasione della giornata di chiusura della mostra dei presepi è prevista l'accoglienza che, come già avvenuto per l'inaugurazione, sarà curata dagli studenti dei corsi diurni e serali dell'Istituto Alberghiero Luigi Sturzo di Gela, diretto da Grazio Di Bartolo. Gli allievi sono coordinati dal professore Emiliano Sigona. Durante la serata di domani saranno presenti il sindaco, gli assessori e consiglieri comunali, dirigenti scolastici, prevista anche la presenza dei responsabili della Proloco di Delia ai vertici dell'Ions dei Castelli di Caltanissetta, con i quali sarà suggellato un protocollo di intesa al fine di valorizzare le bellezze del comprensorio gelese e nissenu. Riaprirà il portone dopo due mesi di chiusura dovuta a lavori di ripavimentazione, sostituzione delle porte, tinteggiatura e installazione dell'impianto fotovoltaico l'Istituto Enrico Mattei di Via Butera a Gela. La ripresa regolare delle lezioni nell'edificio è prevista per giovedì 7 gennaio prossimo con il rientro dalle vacanze natalizie. Nell'ambito del Giubileo della Misericordia, la Forania di Gela prepara un evento in occasione dell'apertura della Porta Santa presso la piccola Casa della Misericordia. Domani alle 10.30 in Chiesa Madre si terrà la celebrazione eucaristica preseduta dal Vescovo e insieme ai sacerdoti della città e subito dopo si snoderà la processione verso l'ex orfanotrofio Regina Margherita dove il Vescovo Monsignor Rosario Gisana aprirà la Porta Santa della Misericordia che rimarrà aperta fino al 6 novembre 2016. Seconda mostra di presepi, presepi in comune realizzata dalle scuole locali promossa dall'Associazione Turistica Proloco Gela potrà essere visitata al Palazzo di Città fino a domani. Previsti intrattenimento e degustazioni l'ingresso è libero dalle 10 alle 12.30 e dalle 17 alle 20.30 la cerimonia di chiusura dell'evento è prevista per domani alle 17.30. Continuano gli appuntamenti col grande jazz al Teatro Comunale Eschilo di Gela venerdì 8 gennaio Francesco Buzzurro e venerdì 29 gennaio Fabio Concato. L'inizio degli eventi è previsto per le ore 21. Per informazioni bisognerà rivolgersi al botteghino dalle 17 alle 20.00. 933-911-892 o 345-5880-580 sono i numeri di telefono di riferimento. Stagione teatrale di Cabaret 2015-2016 al Teatro Eschilo di Gela. Protagonisti degli eventi saranno Sergio Vespertino, Ernesto Maria Ponte lasciate libero lo scarrozzo e Giuseppe Castiglia. Il botteghino sarà aperto il venerdì e il sabato dalle 18.30 alle 20.30. Prossimo spettacolo il 13 gennaio con Sergio Vespertino. Continuano gli appuntamenti musicali inseriti nel programma Natale 2015 Capodanno 2016 organizzati dall'Associazione Amici della Musica Navarra di Gela preseduta dal maestro Crocifisso Ragona. Oggi alle 19 al Convitto Pignatelli concerto dei docenti dell'Istituto Musicale certificato Nova Gelas. Ci fermiamo, c'è la pubblicità. Torniamo tra poco, restate con noi. Bentornati in studio per la seconda parte del nostro telegiornale. L'Associazione Smaff Sport, Musica, Arte e Folclore promuove il presepe vivente che sarà allestita all'interno di un circuito di antichi cortili del quartiere Canalazzo. L'appuntamento è previsto per domani. Evento che porta a riscoprire una tradizione secolare come il presepe e valorizzare i luoghi del centro storico con grande fascino. Il presepe rappresenta le classiche scene della natività e ricostruisce ambienti e spazi di lavoro che richiamano la tradizione storica del territorio. L'orario di apertura al pubblico della manifestazione per domani è dalle 19 alle 24. Prosegue la staffetta benefica per sostenere la ricerca contro le malattie genetiche. Un maxi assegno e altrettanta generosità per Teleton è stata quella dimostrata dal Lions Club Caltanissetta Città dei Castelli preseduto da Fabiola Safonte che ha consegnato a Paolo Lapaia del coordinamento Teleton di Caltanissetta il ricavato della raccolta fondi più di 3.300 euro. Un'iniziativa corale per il club che ha visto coinvolti numerosi comuni della provincia attraverso la realizzazione di mostre d'arte e serate di beneficenza volte a sensibilizzare i cittadini alla donazione. La stessa raccolta fondi Teleton è stata comunque un'attività molto diversificata in quanto ha coinvolto sì i comuni le amministrazioni comunali le proloco per l'allestimento dei banchetti oltre che i centri commerciali ma abbiamo anche avuto un inaugurato e tenuto fissa per tre giorni una mostra d'arte grazie anche alla collaborazione di due importanti pittrici Patrizia Di Cataldo e Lidia Falzone che hanno donato al club due quadri che poi sono stati battuti all'asta ed è grazie al contributo di tutti questi fattori che comunque si è riusciti a raggiungere questo risultato importante. Un importante passo in avanti per aiutare chi non si arrende davanti alla ricerca ha commentato Paolo Lapaia del coordinamento Teleton di Caltanissetta visibilmente soddisfatto ed emozionato per la solidarietà dimostrata dal club service nisseno. Teleton in questi ultimi vent'anni ha spostato molto in avanti l'ambizione dalla cura precoce anche dalla diagnosi precoce alla cura e per alcune immunodeficienze congenite già questo è stato fatto. Non sono stati fatti solo i banchetti ma Teleton ha coinvolto tante altre persone quindi io non posso fare altro che essere proprio contento di questo momento e di essere riuscito a far sì che Teleton quest'anno per la provincia di Caltanissetta riuscirà ad avere nei cinque anni che io sono qui il ricavato più alto dal 2010 a questa parte. Continuano le manifestazioni inserite nel cartellone natalizio promosso dal comune di Gela fino a domani nei locali di Palazzo Ducale mostra di presepi Vita di Gesù di Francesco Bonvissuto fino al 10 gennaio pattinaggio su ghiaccio, eventi, mostra di presepi albero della vita nel piazzale della chiesa di San Rocco a Cantina Sociale sempre fino a domani nel Palazzo Regina Margherita presepi artistici. Il presepe è realizzato dalla parrocchia San Francesco d'Assisi con la collaborazione dei giovani del Movimento Giovanile del gruppo archeologici d'Italia Trischelion composto da elementi ad altezza uomo di matrice napoletana potrà essere visitato fino a domani. Siamo allo sport, dopo la pausa natalizia le squadre tornano in campo. Sentiamo. Dopo la pausa agonistica di fine ed inizio anno torna il calcio giocato e tornano in pista le tre squadre gelesi che militano nei massimi campionati regionali. domani si aprirà il girone di ritorno tanto in eccellenza quanto in promozione. Il Gela, maggiore espressione cittadina riprende da dove aveva concluso il 2015 ossia in trasferta. Sarà il comunale di Raffadali infatti a tenere a battesimo il 2016 agonistico di Capitan Alessandro Bonaffini e compagni. Lo stesso campo dove meno di due anni fa il Gela conquistò la Coppa Sicilia nella finalissima vinta nettamente contro il partinico audace. Era il Gela dei record che con Peppe Misiti in panchina trionfò al termine di una stagione davvero entusiasmante. Adesso i delfini bianco-azzurri sono alle costole della capolista sancataldese che al giro di Boa stagionale ha chiuso con un solo punto di vantaggio sui gelesi. A Raffadali dunque si riaccende la caccia alla leadership del girone di eccellenza per l'undici allenato da mister Totò Brucculeri. Sempre domani al via anche la fase discendente del torneo di promozione dove nel girone D comanda la Nissa ma c'è una squadra in forte risalita e questa è certamente l'atletico Gela del presidente Cristian Paradiso. Il patron giallorosso ha portato alla corte del suo allenatore Misiti nel corso della finestra invernale della campagna trasferimenti fiordi giocatori di grande qualità. Su tutti il bomber Liborio Scudera capo cannoniere indiscusso nella scorsa stagione di tutti e quattro i gironi siciliani di promozione. Il team giallorosso riprenderà da una gara casalinga sulla carta alquanto agevole. Al Vincenzo Presti di fatti domani sarà di scena il Ravanusa e per Capitan Davide Aja e compagni non dovrebbero esserci grossi problemi per incamerare i tre punti ma guai a farsi i conti senza l'oste. Infine viaggia e si reca a Castel Termini il Macchitella Gela che dopo le tre sconfitte di fila con le quali ha chiuso il 2015 vuole adesso provare a riprendere e a marciare anche perché bisogna evitare di finire nuovamente nelle sabbie mobili delle zone pericolose della classifica. Piccolo grande cabaret è lo spettacolo con Tuccio Musumeci che andrà in scena al Teatro Eschilo di Gela sabato 9 gennaio alle 21.30 e domenica 10 gennaio alle 17.30 Il botteghino rimarrà aperto tutti i giorni dalle 17 alle 20 per informazioni 0 933 911 892 oppure 345 5880 580 Andrà in scena domani e giovedì 7 gennaio al Teatro Antidoto di Gela la commedia Il Triangolo No della compagnia I Guitti di Caltanissetta con Alessandra Falci il botteghino lo ricordiamo aperto tutti i giorni dalle 17.00 E invece questa sera al Teatro Antidoto di Macchitella a Gela sarà proiettato il film uno per tutti con gli orari di rotazione della pellicola che sto per ricordarvi 17.30 19.30 e 21.30 Con l'informazione cinematografica è tutto anche per questa edizione del nostro telegiornale grazie per averci seguito fin qui e per aver scelto anche oggi la nostra informazione arrivederci a domani Grazie per aver guardato il nostro canale